buongiorno amici eccoci tornati siamo sempre 096 sono papi e noi siamo a grande so che è già finita, abbiamo già scappato dalla porta però c'è una nuova versione di grande però non grande, questo grande qua che l'abbiamo fatto, c'è la macchina l'extralox vuol dire, leggi, non ho scritto, per il gioco, qua sotto si, lo gioco, metti la qualità media o bassa o chi non so se non c'è la tua volta, non c'è la sua riscoltura quindi va su ah certo, va bene, perché non so se non c'è la tua porta, vai continua sapete tutti come si gioca? abbiamo già giocato due volte poi anche noi abbiamo fatto l'elicottero, la barca e la porta, qua abbiamo fatto solo la porta non lo sapete una cosa ho scoperto come chiudere il radio al posto di mettergli la carne nel piatto e correre ad aprire l'armadietto dobbiamo suonare un pulsante là c'è già la benzina che ci serve sappiamo che la benzina è qua un pezzo del puzzle non ce ne frega l'abbiamo preso un indagno vabbè ma qua è possibile ci sono sempre l'altro pezzo del puzzle che ne stavo tornando un milione no sono quattro insomma dove vediamo è un pezzo dello shotgun quindi le pinze sono o da sbenderina o nella casaforte oggi è la chiave inglese che ci serve stiamo trovando tutto quello che ci serve me l'hai capito ci si abbiamo trovato la chiave inglese che ci serve e l'altro che il coso non c'è non abbiamo trovato niente la chiave delle armi la chiave inglese la chiave inglese questa è la chiave inglese si allora quello là cosa cavolo era quello là là forse era la candela la candela non c'è la candela se c'è il suo A e scrivono la tua non ti confondere adesso abbiamo le chiave delle armi dobbiamo trovare ancora la special key che io so forse dov'è e speriamo che sia dove penso cioè tu prendi sta chiave e non trovi la special key e la butto e piglio quella no che facciamo e quella qua la special key non ti ricordi dove ho messo qua la chiave si non ti posso fare con la balestra che cosa spariamo adesso? dobbiamo sparare il coso sia la cosa per chiudere il ragno così apriamo la benzina con un'altra cosa che ci serve mamma wow è caduto tutto vabbè la benzina allora vi dico una cosa tutto quello che ci serve per la macchina buttiamolo qui sotto abbiamo buttato la chiave inglese abbiamo buttato la benzina questo calciamite serve per svitare la grata sì si ora play hockey o speriamo la chiave della cassaforte vediamo credo la cassaforte credo e spero vedete la chiave della cassaforte ti pareva che c'era la chiave che non ci serviva ma porca però ci abbiamo già un ingranaggio vediamo qua nulla nulla del codice e del foglio ingranaggio vabbè la prima cosa ci serve perchè ce l'abbiamo ingranaggio questo che c'è questo che c'è le pinze però e ci serviva si doveva dovere il cibo per il corvo poi scomento che c'è il ragno ce l'abbiamo qua speriamoci se il martello se lo è nel pozzo il martello è nel pozzo hai capito il martello è nel pozzo quindi? quindi dobbiamo andare a trovare la leva del pozzo non abbiamo trovato niente prima si abbiamo trovato la chiave inglese queste quanto c'è l'onore a fare sto video? ma forse io so dove sa un'altra cosa la macchina comunque comunque prendiamo la balestra e poi prendiamo la special key in realtà prendiamo vediamo prima se qua c'è la parte d'energia non c'è la parte d'energia ma che cavolo non ci sta niente viene la cassaforte c'è un peso del puzzle quello che non ci serviva niente dobbiamo soltanto capire dove sono alcune cose che non abbiamo ancora trovato eh noi abbiamo la chiave inglese e e l'altra la chiave inglese e la benzina ci manca la carchi lo sparkplung e l'energy part e la padre cioè ci manca tutto che è caduto? è caduto sto cosa si 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 è schifo sta macchina si e tu dai e lei 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 porca lo sai e allora non ho più trovato niente se non vuole andare qua qua c'è il cibo del corvo c'è il cibo del corvo io lo sapevo che c'era il cibo del corvo non vi ho detto c'è un altro sistema per il corvo? no c'è un altro sistema per il ragno c'è per il corvo io devo aver fatto il cibo non credo che si potesse sparare il corvo prendiamo questo cibo il corvo salta pensa scappa non ci ha notato non ci ha notato non ci ha notato la pinza prendiamo la special key e forse qua c'è la battiglia per la macchina questo cos'è? è la special key serve per andare dal ragno poi dobbiamo prendere la palestra e spararlo al ragno? si andiamo a metterla dal ragno spider? si poi prendiamo la palestra e poi vediamo cosa nasconde qua non c'è il pezzo del pazzaro è strano però vabbè perchè la cosa è scomparsa? cosa? e la liana cosa? e la liana qua bisogna c'è una cosa aspetta come abbiamo trovato tutte le cose della macchina la benzina benzina gasoline si porta la giù vai non più che ora dobbiamo sparare la cosa per impedire al rano di arrivare al posto di mettere la carne nel piatto possiamo chiuderlo? vediamo cosa nasconde credo e spero la padlocki quindi gli fai sparare in testa qualcosa che cade e lo cattura giusto? deve stare qua si l'ha chiuso guarda ora non ci prende più nanananananananana se si apre questa cosa e ci frega vedi una cosa di via si c'è lo spark plug sarebbe la barata questa è la candela è il motore la candela va nel motore ah si questo è il motore ogni motore c'è parecchie di queste qua che servono a fare la scintilla per fare accendere la benzina comunque la vedo e portalo giù lo schifo di ragno senza che il ragno ci prende ora dove sta? eccolo qua ricorda no dobbiamo buttarlo comincia a portare qualcosa giù non so a vedere cosa è questo è il gasoline si il gasoline dobbiamo buttare giù un'altra cosa abbiamo trovato ora dobbiamo trovare un'altra cosa dimmi queste cassette non l'abbiamo mai controllato eh non c'era la scritta facciamo una cosa la chiave della playhouse non mi ricordo dove l'abbiamo messa e questo è un gran problema un gran bel problema io te l'ho detto io gioco sempre questo delle cose poi non sai dove le posso credo l'abbiamo lasciata qua non l'abbiamo proprio presa sappiamo anche già dove sono i granaggi quindi sono messi bene troppo 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 si lo sapevo lo sapevo forse posso trovare la carbaccia le batterie della macchina si forse possiamo trovarle possiamo trovare o il codice anche o la puzzle tutti e tre possiamo trovare ma il puzzle non ci serve no c'è solo lo sprite no c'è anche il codice che non ci serve lo schifo lo schifo lo schifo il sprite l'ho fatto credere che c'era la car battery però non è giusto prendiamo prima quello di sopra che è più vicino vanno tutte e due nella play house quella che abbiamo aperto con la chiave ci darà o la padlocki che la spero o la master key che la master key non ci serve andiamo a prendere l'altro ingranaggio che era la corvo e poi mettiamo in là speriamo che esce la padlocki però la padlocki esce più nel melone però speriamo ma dobbiamo prendere l'altro ingranaggio dal corvo si il corvo sta di qua se poteva fare anche una scorciata via da sotto però il brutto è che il gioco non ci va a prendere due oggetti i raggi sono anche piccoli quindi che ne dovrebbe prendere anche 18 eccolo qua il corvo è qua qua dobbiamo prendere la baletta e sparare là sperando che si salva la mia del pozzo perché non l'avevo mai aperto perché non l'avevo mai aperto ma io non lo so c'è la car key c'è la chiave della macchina però comunque andiamo a mettere bene all'ingranaggio andiamo a chiamare la macchina la chiave della macchina serve sia per aprire lo sportello e che per guidarla è per accendere l'abbiamo eh sì la padlocki deve essere qua spero perché non credo tanto no c'era la master key c'era la master key quindi vuol dire che la padlocki è nel melone e l'anguria sì nell'anguria crei l'anguria sarà lo sportello della macchina quindi corriamo subito a prendere la car key e andiamo e apriamo la macchina sì lo sportello anche apriamo ora scendiamo giù facciamo qua che è più una scorciatoia andiamo qua e speriamo che ci sia il melone perché sennò c'era il martello vabbè ci serve il martello a che ci serve si serve per rompere siamo a cavallo col martello per rompere l'anguria no l'anguria si rompe nella cosa dove taglia la testa ah la tagliola sì no la tagliola un'altra cosa che taglia la testa nel giardino vedremo dopo te la faccio vedere c'è la carne che non ci serve un cappero però comunque con le plank non mi dire che è andata a finire la casa no è andata a finire qua c'è la chiave della cazzaforte 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 No, abbiamo provato la special king. Qua. No, era di qua allora. Vedete? Eccolo qua. Ora andiamo a tagliare il cozzo e prendiamo la chiave della cassaforte. E poi col martello andiamo a spaccare la telecamera. Senza correre di qua. Comunque si può anche cadere. Ecco, il martello è in cuore. BAM! E troviamo un'altra cosa della macchina forse, credo e spero. E cioè? L'energy part. Sarebbe la batteria. Nel tempo dobbiamo trarne un'altra batteria. Qual è il problema? E che non so dove è. Eccola qua. C'era una leva del pozzo. Non ci serve nemmeno più. Però il brutto è che non c'era l'energy part. Quindi l'energy part deve essere nel pozzo e noi abbiamo la leva. Poi serve solo a battere la macchina che credo che sia qua. Hai capito? Qua dove c'è il melone. Dove all'interno sarà la padlocki. Credo. Ma c'è? Il melone! C'è l'anguria! C'è l'anguria! C'è l'anguria! Ora la facciamo spaccare. Guarda comunque la bigliettina che ti dicevo qual è. Bigliettina è. Qua si taglia il melone. Questa è la bigliettina. La padlocki. Io lo sapevo. Io lo sapevo. Io lo sapevo. Andiamo a prendere il passaggio. Siamo messi bene. Allora. Mettiamo tutto quello che abbiamo visto. Allora. Ma ci manca solo l'energy part, credo. Ma dove può stare? Libro? Abbiamo il garage. Qua ci può stare qualcosa? Ma non qua vero. Non c'è niente. Ma se vuoi fare lo scherzo? Quindi al grado di un po' e a cinque. Sì, quello la fa rire. Comunque prendiamo la balestra. Andiamo a sperare una cosa. Però prima. Facciamo tutto quanto quello che abbiamo trovato. C'è che l'ingresso, lo spark plug. Non so cos'è. Vabbè, l'inimato contro non ci sarebbe più. Il melziano lo mettiamo qua. Guarda la gasolina, guarda la gasolina. Guarda la gasolina. Ora. Vendiamo la balestra del ragno. E spariamo là. Dai, vedi? E vedi? È vero? Crospo. E ce l'abbiamo. Dobbiamo sparare e andare nel pozzo. Non nel pozzo, nelle fogne. E sparare. Sperando che ci sia sia l'energy party che la car battery. E che non abbiamo trovato nessuno delle due. Se abbiamo trovato quelle, se trovavano quelle due, potremmo scappare dalla macchina. Capito? Speriamo che se... Le altre cose mettiamo dopo, ho messo solo la benzina. Speriamo che qua si trovano tutte e due. Vediamo se si trova sullo sto coso, ma rabbio. C'è la car battery. C'è la car battery. Il problema è che l'energy party non l'abbiamo ancora trovata. Non è che sta venendo l'anguria. No, l'anguria l'abbiamo tagliata. Forse è qua l'energy party e ci serve il martello. Ora il mio cervello l'ha pensato. Ora, ora. Ora l'ho capito, ora. Il martello sta sempre dall'anio che l'abbiamo lasciato là. E siamo fuori. L'avete capito? Vediamo. Poi non ci volano 30 minuti e più, come avevo detto. La car battery la mettiamo qua. Poi andiamo a prendere il martello. che si trovava di sopra. Qua, da Slenderina. Guarda qua, se una persona vuole passare. No, può passare. Guarda cosa ha fatto. Il tunnel mare è detto quasi è rotto. Così posso salire. Guarda. Sono sopra. Ora posso vedere tutto. Questo sarebbe molto utile quando ce l'hanno. Ma io non ce l'hanno. Vedo, andate una cosa qua. Qua è vuoto. Il martello. Dove cavolo sta il martello? Allora l'abbiamo lasciato qua. Qua abbiamo lasciato il martello. Qua non c'è niente. Quindi potete togliere quelle assi e vedere se stanno le due queste da noi. Spero sia l'Energy Park. Sì, ci deve essere l'Energy Park perché abbiamo trovato tutto tranne quello. Ti rendi conto? Ora andiamo là. Arriviamo più presto dal pozzo però. No, in realtà facciamo più presto qua. Dove, dove, dove. Devi vedere però. Sì. Non so addormentare come fai sempre. Non so addormentare. E guarda però. Quello non è caduto. Devi calmare. Come pensavamo c'è l'Energy Park. Ora andiamo dalla macchina. Abbiamo tutto? Sì, ci abbiamo tutto. Ci abbiamo tutto. Ci abbiamo tutto. Poi dobbiamo trovare soltanto la chiave della macchina. Ce l'abbiamo. Abbiamo lasciato un po' giù. Ma l'abbiamo butti qua. Eh sì, è vero. Questa qua credo sì, questa è. Allora, questo lo tengo qua. Andiamo a prendere lo Sparkbook e la chiave inglese. Ok. Che troviamo di sopra. Se la chiave inglese qua se lo spero. Allora, devo la chiave della macchina e iniziamo. Adesso c'è questo. Cioè con la chiave inglese. Ci sono sentite così cerro. Con la chiave inglese. Ci sono iniziato tutte le cose rotte. Ora, andiamo a mettere lo Sparkbook e poi apriamo il cancello. Allora, capite la macchina e prima apriamo il cancello però. Abbiamo aperto solo questo della porta. Però, no, lo Sparkbook. E ce ne andiamo. Capito? Dai, metti questo spattolo che andiamo via. Non ne posso più. Diamo. Diamo il cancello, non l'hai già alzato. Il cancello. Ok. Allora. Allora. Siamo nella macchina. Ok, allora posso non accendere? L'ho rotto un po' però si è rotto questo. Ma così si è anche questo non accendere? Sì. Ora, credo l'ultimo. Sì! Yes! Siamo riusciti a fuggere. Adesso questo è forse uno dei più belli video che abbiamo mai fatto. Di bei video. Quindi se vi è piaciuto iscrivetevi al canale sempre 090. Adesso vi metteci un bel like. Io sono Papi. Adesso ora. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, belli. Ciao. Ciao.